6 anni anziché 9. Per la morte del madonnaro Leonardo Vitale, avvenuta a Lecce ad ottobre del 2021, la Corte d'Assise d'Appello, riunita nell'aula bunker del carcere di Borgo San Nicola, riduce la pena inflitta in primo grado Mamadoula Min, 25enne di nazionalità senegalese, accusato di aver cagionato l'eccesso dell'artista di strada a seguito di un tentativo di furto sfociato nel sangue. I giudici di secondo grado, preseduti da Ettore Enesti, hanno anche riqualificato i reati a lui attribuiti. Quello di omicidio preterintenzionale in morte come conseguenza di altro reato, per il quale è stato condannato a due anni, e quello di rapina in furto con strappo, per il quale gli anni flitti sono stati invece quattro. Quella notte del 4 ottobre di due anni fa, stando quanto ricostruito nel corso delle indagini, il giovane senegalese avrebbe docchiato Leonardo Vitale in zona stazione a Lecce, dopo averlo visto riporre nel suo trolley un sacchetto con all'interno diverse monete, il denaro guadagnato nel corso della serata. A quel punto lo avrebbe seguito e una volta raggiunto gli avrebbe strappato il carrellino. A quel tentato furto però Vitale avrebbe cercato di opporsi, salvo poi cadere a terra e sbattere fatalmente la testa. Operato d'urgenza per rimuovere l'ematoma, il sessantena era poi morto al fazzi pochi giorni dopo. Non voleva ucciderlo, aveva dichiarato in lacrime la Min, individuato dalla squadra mobile grazie alle telecamere di videosorveglianza nel corso dell'interrogatorio davanti al GIP Alessandra Semarini. L'imputato difeso dall'avvocato Alessandro Stomeo a gennaio 2023 era stato condannato a nove anni di reclusione al margine del processo di primo grado con rito abbreviato. Pur riducendo adesso la pena a sei anni, i giudici d'appello hanno comunque confermato la condanna a risarcimento del danno in favore del fratello della vittima, costituitosi parte civile e assistito dall'avvocato Raffaele Pesce.